E' da oggi in vigore la riforma del condominio, che interessa circa 30 milioni di italiani. Alcune delle principali novità riguardano aspetti amministrativi, come l'introduzione dell'obbligo di istituire un conto corrente intestato al condominio o la modifica sul quorum per la validità dell'Assemblea e delle sue delibere. Viene infatti limitato l'uso eccessivo della delega, che non potrà più essere data all'amministratore, e nel caso i condomini siano più di 20, un singolo partecipante all'Assemblea non può rappresentare più di un quinto dei condomini e un quinto dei millesimi. Importante è l'introduzione dell'obbligo di costituire un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori nel caso di opere di manutenzione straordinaria. Attenzione anche per i condomini morosi. Dopo sei mesi dal rendiconto in cui risulta la morosità, l'amministratore ha l'obbligo di richiedere il decreto ingiuntivo, salvo dispensa assembleare. Buona notizia invece per gli amanti degli animali. Da ora in poi non sarà più possibile vietare con regolamento condominiale la presenza di animali domestici nelle abitazioni. Con fedelizia ha indetto per oggi la giornata condominio aperto. Le associazioni territoriali saranno a disposizione fino alle 19 di stasera per rispondere gratuitamente ai quesiti di condomini e amministratori.